dal 2012, sono anche un'analogista certificata, AJ Europe. Quindi vi voglio parlare delle motivazioni per le quali un cliente si può interfacciare con noi analogisti. Possono essere svariate, la maggior parte sono dei disagi dovuti a un malessere generico che la persona può dire di soffrire di agitazioni, scompensi comportamentali e quindi richiede l'aiuto dell'analogista. Proprio per questo l'analogista andando a lavorare sulla parte emotiva della persona che la nostra memoria a 360 gradi va a vedere la causa principale del malessere della persona che può essere anche un disagio di coppia, un disagio a livello lavorativo, un'insoddisfazione generale della propria vita. L'età si può andare dai bambini dai 6 anni con la pedagogia emozionale fino a 100 anni, non ci sono limitazioni a rivolgersi all'analogista. Vi saluto e non fate a meno di ricercare queste figure perché sono valide e di aiuto. Arrivederci.